Tredicesima edizione per l'evento organizzato e promosso dalla clinica dentale Cardarelli. Dentalandia, il paese dei bimbi sorridenti, anche quest'anno ha registrato un gran numero di bambini giunti all'auditorium Unità d'Italia di Sernia per divertirsi, ballare e scoprire attraverso gioco l'importanza della cura dentale. Dentalandia è un progetto di prevenzione della salute orale in età pediatrica e ha proprio come obiettivo quello di cercare di rendere quelle che sono le cure odontoiatriche, ortodontiche nel paziente in crescita molto molto semplice. Quindi è un modo per avvicinare i piccoli pazienti alla cura dei denti, all'ortodonzia, attraverso dei giochi, quindi in maniera ludica. Numerose le attrazioni per i bambini e divertenti le attività e giochi a tema per insegnare ai più piccoli l'importanza dell'igiene orale e a non aver paura del dentista. Giochi mirati alla conoscenza della salute orale in età pediatrica e chiaramente ci si avvicina in maniera ludica ad un qualcosa di molto più complesso, qual è la nostra bocca. Una corretta igiene orale è importante fin da piccoli, questo perché prendersi cura dei denti, già in tenera età aumenta esponenzialmente le probabilità di avere da grandi una bocca sana e un sorriso smagliante. Intervenire nella fase della dentatura decidua, cioè con i denti da latte, perché è proprio la dentatura decidua che prepara la dentatura permanente, per cui la prevenzione già inizia all'età di due anni, due anni e mezzo, sotto forma di visite di controllo e di istruzioni anche all'igiene orale, ma soprattutto istruzioni per quanto riguarda tutte quelle che sono le problematiche della deglutizione, della respirazione e della fonetica. Quindi si vede oggi la prevenzione orale sotto altri punti di vista, non è più soltanto il dente, ma è un qualche cosa di più complesso che c'è attorno.